Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va spero che state bene e che state rascorrendo una splendida giornata Nel video di questa mattina voglio parlarvi di un difensore, bene sì, nella fattispecie Flavius Daniliuc, classe 2001 della Nizza E questo perché? Perché la Sarditana potrebbe chiudere definitivamente il colpo nei prossimi giorni Ma i giochi non sono ancora fatti perché il Bologna potrebbe ancora seriamente dire la sua Prima di procedere non c'è una questione, mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate campanile notifiche prima di sempre aggiornati In più, mi raccomando, passate a trovarmi su Telegram e date sempre uno sguardo alla playlist presentazione dei calciatori In quanto troverete molti, molti, molti video di questo stampo, ovviamente non tutti registrati in macchina Ma caliamo un vielo pietoso su ciò Torniamo a noi, chi è Flavius Daniliuc, difensore centrale, classe 2001 del Nizza, nazionale austriaco Un difensore che è cresciuto nelle giovanili del Bayern di Monaco, o meglio, quando era piccolissimissimo, era nelle giovanili dell'Admiravaker Poi, col tempo ha avuto anche un'esperienza a Real Madrid, poi giovanili del Bayern di Monaco Fino alla stagione 2021, nella quale passa a tido gratuito dal Bayern di Monaco al Nizza Scuola nella quale, insomma, Daniliuc esplode Nel senso che era già considerato un ottimo giocatore quando era nei giovanili del Bayern Però poi non ce l'hanno particolarmente puntato, quindi poi il giocatore ha deciso di andare via a parametro zero E appunto di accasarsi in Francia E diciamo che in queste due stagioni al Nizza lui ha fatto proprio l'esplosione Ha trovato continuità, ha giocato anche un ottimo numero di partite Dove ha messo in mostra anche le sue più grandi qualità Quindi che sono quelle fisiche e quelle riguardanti, insomma, delle letture tattiche veramente interessanti Un giocatore alto 188 cm, destro di piede Dà una fisicità veramente importante Perché i quadricipiti, quindi le gambe, sono veramente possenti Ma comunque anche abbastanza affusolate allo stesso tempo Non è ovviamente una stessa muscolatura uguale, insomma, alla Shakiri Anche perché voglio dire la statura è levemente diversa La costituzione è levemente diversa La parte sopra del busto è abbastanza importante Insomma, stile barzagli per farmi capire Quindi spalle larghe Bacino abbastanza mobile Non particolarmente mobile E gambe lunghe, possenti Lunghe sì Ma fondamentalmente lui è un normolineo Non è un longolineo Quindi avendo il baricentro equilistante, diciamo così, dai piedi Oppure dal baricentro alla testa Non gli fa perdere particolarmente velocità È una corsa forte, potente, di grinte, un carro armato Ecco, alivo di corsa somiglia un pochino a Johan Vasquez Quindi quella è la corsa molto fisica Piuttosto che di falcata Come difensore è un destro di piede Che ripeto, gioca molto sull'anticipo Sulla vigoria fisica Raramente è falloso, devo dire questo Raramente è falloso Però è uno che attacca molto l'uomo Uno che ti viene contro di corsa E tenta molto l'anticipo È uno che utilizza molto i famosissimi blocks Nel senso che ti sta a quella distanza tale Che se l'avversario tenta la giocata Con un lieve movimento di gambe Diciamo così, o di corpo Comunque ti blocca direttamente il passaggio sul nascere Grazie alla sua velocità è anche molto funzionale Diciamo così per giocare difesa alta In quanto su pala lunga Non avrebbe difficoltà particolari Insomma recuperare i metri dell'avversario Correndo, girandosi e correndo all'indietro Quindi tengo il giocatore molto 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 interessante Che ha otti margini di miglioramento Ora, questo giocatore È anche molto utile a livello tattico Perché lui fondamentalmente ha giocato Prettamente come difensore centrale Che giustamente è il suo ruolo Ma Però in una difesa 4 PS Ma anche come terzino Sia sinistro che destro Molto più aramente Il classico terzino di corsa Non è il fluidificante che ti va sul fondo e crossa Però Quello terzino di corsa Di vigoria Immaginatevi Ecco, Scalvini O Skriniar Quando nella difesa 3 Da braccetti Si allargano Sulla destra Quando si va a scalare E percorrono metri di campo sulla fascia Ecco, un po' così Un po' sgraziatino Non è il giocatore che ti va a fare il cross appunto Però Ti può fare quel terzino un po' più bloccato Che ti sale verso il centrocampo Però magari nulla più Sempre ovviamente in una difesa 4 Ora, come vi ho già detto Il giocatore è cercato insistentemente da Bologna e Salernitana Partiamo dal discorso Bologna Allora, il Bologna è in crisi difensiva Perché dopo aver subito un po' lo smacco da parte del Torino Che gli ha soffiato per Schurz Ad ora conta In acquisto Gianluca Comì Poi Gerimedel Sumaurò E Bonifazi A Dittura Nell'ultima partita ha schierato Lico Yannis Che è un terzino di spinta Come braccetto di sinistra Quindi al Bologna sarebbe veramente importantissimo Perché potrebbe rappresentare quella forza fisica Quella leadership Un po' più in divenire magari questa Del vecchio Danilo Un giocatore che Danilo, Daniliucci Vabbè comunque Un giocatore che può giocare sia a braccetto di destra Che di sinistra Che Crescendo Potrebbero avere difficoltà anche a fare il centrale puro Ma che comunque potrebbe dare molte opzioni Mialovic in difesa In difesa 3 Invece la Serenitana La Serenitana sarebbe un ottimo acquisto Perché avere due difensori centrali Su 3 Come Bron E eventualmente appunto Aniliucci Ti svincola Mentalmente Dalla leggerezza di Lovato Quando diventerà Lovato secondo me Sarà un card In difesa della Serenitana Però Anche quando era Tra l'avante Sempre sarà considerato un po' leggerino Non Il difensore Arcigno Un Lovato Eventualmente centrale Con Bron Braccetto di destra E Danilici Del braccetto di sinistra Sarebbe una difesa Secondo me eccezionale Perché andrebbe a ripercorrere Le stesse caratteristiche Che fondamentalmente avevano Barzali Bonucci e Chiellini Un Lovato Un po' più in impostazione Un po' più Leggero E due braccetti Come Danilici E Bron Bron Un giocatore Che tenta molto La percussione Quando vede un po' di spazio Sebbene uno Come vi ho già detto Anche in view di presentazione Che gioca molto Sul breve e medio Breve e media distanza E d'altra parte C'è un Daniliuc Che se vede lo spazio Lo prende Più di fisico Che di classe Però insomma Anche Chiellini Era così Più di fisico Che di classe Quindi per entrambi Sarebbe un'opzione Veramente Veramente Interessante Guarda caso Due difese Che giocano a tre Quindi evidentemente Hanno visto nel giocatore Questa potenziale Questo potenziale Di sviluppo Nella sua carriera Però ecco Non si parla ancora Di costi Si parla però Che la serenità Appunto È intenzionata A chiudere Nei prossimi giorni Si va a vedere Appunto I costi Quanto saranno Quanto sarà Il prezzo di trasferimento Quanto sarà L'ingaggio Quando sarà Durato L'ingaggio Del contratto E vediamo un pochino Spero ovviamente Che questo video Vi sta utile Per capire un pochino Chi sia Questo Travis Daniliuc 2001 del Nizza E se ovviamente Il video vi è piaciuto Lasciate un like al video Iscrivetevi al canale Da campionale Vi viene sempre aggiornati Passatevi a trovare Su Telegram E ad esempio Lo sguardo Alla playlist Presentazione Calciatori Vi mandano un abbraccione E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi